E' morto Maurizio Scaparro, aveva compiuto 90 anni il 2 settembre del 2022 ed è morto nella sua casa romana. Era l'ultimo grande personaggio di quel gruppo di cui fu capostipite Streller col piccolo di Milano, che nel dopoguerra fece nascere il teatro pubblico e la moderna regia in Italia. Dopo gli inizi allo stabile di Bologna, direttore di Bolzano, quindi nel 1983 a Parigi al fianco di Streller e subito dopo direttore del Teatro di Roma dal 1983 al 1990, poi commissario straordinario dell'ETI, ente teatrale italiano, direttore dell'Olimpico di Vicenza del Teatro Eliseo di Roma dal 1997 al 2001.